ciao amici come attraverso sono senza voce e proprio per questo è un altro episodio del tryhard in compagnia di mister gabbo ora andiamo su tss lo salutiamo da di un caro suo benvenuto con uno screndo vaffanculo gabbo nei commenti e niente sto giocando a mumu il faraone perché mi diverte un sacco questo champion è troppo carino e divertente quindi vi consiglio di giocare a mumu le ruole sono queste giocatelo tutti quanti e io farlo poco perché sto morendo ciao capo ciao capo non sei felicissimo che sto usando a mumu no perché so che lo farei full a b e perderemo la partita non abbiamo mai verso il mio amore comunque sto registrando perché non ho voce quindi tu intrattieni un forte applauso a gabbo e iniziamo questo game ma io ho paura il tuo volume sia altissimo sai non so che dirti ma lo scopriremo nei video secondo me è stra alto guarda che si esplode la bocca perché non me l'aspettavo questa reazione le action times gli aspettati da parte dei bronzi guarda che sono platto ah ok sorry è l'ero del tuo main praticamente aiuto sono morto gabbo ma dai ma hai visto che l'hanno fatto ma non vale vabbè questa è l'unica morte che faccio in questo game sappi lo spero per te ediwood ma hai visto tu non hai visto quello che ha fatto zed ma mi auguro che tu non abbia visto una push emina così poi io posso andare felice guarda come ti busto guarda ha il flash a tutto ma scusa ma perché non è morto vabbè questa è l'unica morte che faccio in questo game sappi ma vaffanculo la mia vita fa schifo ma perché non è morto i w perché non hai fatto abbastanza danni ma l'ho anche maxata la w no questa fucking shame vabbè non so colpo e tu non lo puoi prendere capo ma guarda non prende danni ma cos'è sta arrivando le sin non lo possiamo ammazzare secondo te no non lo possiamo ammazzare se tu lo vedi sotto dovrei io faccio finta di non esserci ok vediamo cosa accade no ci riusciamo ci riusciamo se viene dai 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 no l'outriscen mio e di te questo succede a figarsi dei gabbi peccato cavolo era ok avremmo preso un bello shutdown si si ci ha fregato quella non ce l'ho pensato io se vi sento invece di andare là veniva da qua era morto perché avevo la zonia eh si sarebbe stato easy vabbè un fan like all'inizio ma poi davanti tanto vinciamo io ci sono top dovrei prenderlo oh yeah si che lo prendo ok oh what io posso fare la cuda lì non ho male per la ult gli ho dato la testata della morte credo stia arrivando lulu no vabbè vado back no 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 sei fine però stia arrivando l'istina che ha regolato ma ok ma buono dai buono 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 lui è un friendly player guarda che ultimate che ti fa il magico amumu e poi dici che non ti busto tutte le rank e che facciamo holy shit le nostre ulti penso abbiano fatto tutto il dano tutto il dano hanno fatto quadrig due tasti hanno fatto quadrig questo sarebbe pure scarsottie avversaria tra l'altro sai invece di usare la ulti prima della mia l'ho usata dopo le nostre ma come la storia tra zed e shen non c'è una rivalità tra i loro due io non conosco bene le loro ah si zed è andato al lato scuro erano entrambi gli allievi erano esattamente erano entrambi gli allievi dello stesso maestro che era il padre di shen e poi però c'è zed è passato al lato scuro vabbè vedete che se guardate i miei video conoscerete anche la lore del link of legend è bellissimo così ma fai la mia non ha ulti non ha ulti ok non è per mai cercare ho trollato devo flashare via ma forse non ho trollato ma che sta succedendo qua 10 secondi ci sono 20 secondi vabbè diciamo che quindi non posso andare lì e se c'è la zed io posso andare ma guarda lì effettivamente alla fine è successo che che zed ha ucciso il padre di shen e vedi ora si è appena vendicato quindi apposta oh guarda qui no 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 sai che è morto lì si è ah adesso è l'outish no ha ultato min ah no ha ultato qui ha ultato qui shen ah no infatti l'ha salvato peccato beh l'isensi è suscitato ma che cazzo fa lì si è peccato è becca 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 che hai da becca ah io non ho paura eh ha laggato un po' io bush mi do zed è andato flash in W e non fa danni guardalo magico zed ha lasciato tutto e non ha fatto niente usare tutto per poi non fare niente ci vuole stile guarda trash ma che fa trash perché è andato ma guardalo ah ma ci sei tu ma mi sembra una cattiva idea comunque e infatti è una cattiva idea ma che cazzo da fa ah questa è buona però ho visto che l'isensi non mi fa danni gobbè l'isensi ha fatto la ulti eccetera eccetera non mi ha fatto tipo ovviamente mi ha fatto zero danni siamo 4v5 siamo 4v5 bene ma è buona io faccio dentro faccio ulti su 6 ho 5 persone 6 non esistono chi se ne è morto vedete ma ancora una volta Mufa 1v9 peccato per quella ultima Q la zed non era in fight non c'era non c'era abbiamo stravinto gli ha fatto ulti su 4 possiamo fustare lo non ha no anche lei ha messo ma il trash è un cagno cagnolino cagnolino bel cagnolino guarda zed c'era le meccaniche vedi che drin si è fatta la runa frontlane ad carry tu stai venendo e dunque zed fa veramente zero cioè zed lo dovresti vedere fa zero danni ho la ulti se vuoi io ulti faccio queste foto via no io devo mettere una telecamera apposta per zed e vedere quello che fa dai ulti locate che sfiga sono salvati il tono di vita vabbè ma che stanno facendo quei due non lo so stanno trollando grande scena zed ve lo dico sto venendo però non so se ci conviene vabbè a questo punto mai si fa non più niente va bene se vanno a back ok aspetta che faccio una buona ulti no fa che non l'ho preso sono stati cavi non c'è no rip vabbè se muore solo lui è buono io sono qui dietro vabbè vabbè dai no vabbè è proprio il 0 0 0 tutto vabbè non fa niente non fa niente 2 per 3 che potrei ingaggiare che cazzo mi è scricato vabbè ma vaffanculo vabbè prendiamo lui e scendo con il pacchetto ma perchè ha ultato quella non lo so andiamo a nascere andiamo a nascere dai nascere andiamo a nascere se muore scena ma anche il nascere lo potremo fare dovete fare nascere vabbè decidete andiamo comunque che sfiga dai io a partire ho misclicato il flash ho fatto flash invece di ult ho sprecato il flash doll poi che altro è successo quello è vabbè che ti ha inaltato il target sbagliato ma che fa la zed ma che cos'era dai che ho stunnato xia però c'è xia e lulu però che ingaggi in merda era tornate ma possiamo fetarli io verso via aiuto vabbè dai in 3x3 eravamo un in meno quindi devo andare anche meglio e anche peggio e anche peggio ragazzi ragazzi è sempre qua guardate le mie ulti oh mia è troppo forte ma mi sto facendo uno b9 dico una guerra mia wow wow quanti soldi mi dai per questo free 1b9 da un mu 0 0 è vero l'ho aggiunglato in realtà era tutto un piano fargli credere guarda che era questa la mia tecnica fargli credere di avere la partita in pugno e poi arrivare a essere 4 livelli su ora di lui perché no possiamo andare tanto non fanno danni sti pagliacci no ho trollato con sta ultima guarda va bene amici questo era il video con Gabbo spero vi sia piaciuto fatevi sapere nei commenti cosa ne pensate Gabbo è un po' scarso lo so ma l'ho boostato non c'è problema e niente ci vediamo domani con il prossimo video Gabbo saluti e dici ciao 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 e scusate se non ho voce sto morendo